Nella sala Museo del Santorio di Tre Castagni esposte le tavolette naif sui miracoli di Sant'Alfio, che rappresentano le grazie ricevute, oltre che testimonianza di fede, e che dovrebbero portare al riconoscimento degli ex voto tre castagnesi come patrimonio intangibile dell'UNESCO. Sabato intanto alle 17, sempre nella sala del Museo del Santuario, si svolgerà l'incontro alle tavolette votive Miracoli a Tre Castagni e dintorni, a cura di Elena Coco per il Comune con l'Associazione Ideattiva di Catania. Saranno presenti il sindaco Giovanni Barbagallo, l'assessore alla cultura Marilena Don Suso, il dottore Alfio Grasso, la psicologa Agata Bonanno, l'attore Gaeno, l'ingegnere Pippo Di Paolo e il rettore Don Alfio Torrisi, che alla presenza delle istituzioni, dei gruppi di volontariato e dell'amministrazione del santuario, presenteranno ufficialmente la festa dei compatroni che inizierà il primo maggio.